dovrebbe essere avviata sì buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti ben trovati a tutte e tutti ben trovati a questo primo incontro dei quattro con incontri della serie di webinar dal titolo la dimensione sociale della povertà energetica quindi quattro incontri dove appunto esploreremo pur essendo a distanza però ormai post covi di confronti a distanza sono stati abbastanza sdoganati dove affronteremo diciamo nuovi studi nuove prospettive nuove ricerche anche anche particolarmente innovative nel comprendere questo fenomeno povertà energetica fenomeno che sta acquisendo sempre più una una certa rilevanza anche per effetto insomma della dell'aumento dei prezzi delle materie prime che abbiamo visto che abbiamo visto negli ultimi negli ultimi mesi sia nella coda del longa lunga cove 19 ma anche poi come effetto del conflitto tra russia ed ucraina benvenuti a tutte e tutti oggi la nostra prima ospite è nives della valle del joint research center di ispra quindi per conto della commissione europea con il contributo dal titolo l'approccio comportamentale alla alla povertà energetica chi di voi ha visto diciamo la locandina introduttiva ha potuto magari avere una prima familiarizzazione con i temi che che affronteremo oggi oggi pomeriggio con la nostra ospite che ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito in realtà io non l'ho indicato nella locandina introduttiva mi prenderò qualche minuto per introdurre un po per fare un po gli onori di casa diciamo per introdurre un attimo questa serie di webinar cercando un po diciamo di sistematizzare dare un attimo un'ampia un'ampia no una rapida anzi introduzione riguardo al perché di questo webinar e anche dando magari alcune coordinate su sui temi appunto che analizzeremo prima di tutto questo appunto un disclaimer sul fatto che l'evento è registrato quindi se tra i partecipanti coloro che non gradiscono diciamo essere ripresi possono ovviamente spegnere la loro la loro webcam una informazione invece relativa diciamo destinata agli studenti attenzione chiedo agli partecipanti in questo momento di spegnere i microfoni in modo che non ci si sovrapponga altrimenti sono costretto a farlo io ecco grazie mille grazie mille le slide della presentazione saranno inviate ai partecipanti da parte mia sì nel senso quelle che vi introdurrò tra poco sì poi a seconda insomma dei vari lecturer dei vari ospiti ma vedo che in ives sta sta dando esito affermativo stavo dicendo per gli studenti dell'università di trieste è richiesto che indichino in chat se intendono essere intendono maturare il credito formativo previsto per la partecipazione a tutti i quattro webinar per farlo basta indicare nome cognome numero di matricola in chat così che io possa prendere nota delle vostre insomma delle informazioni a vostro riguardo e poi appunto espletare formalizzare le pratiche di richiesta di questi crediti f di questo credito f ovviamente si consegue il credito f partecipando a tutti e quattro tutti e quattro gli incontri prima di passare alla presentazione anzi incomincio già con la condivisione la condivisione del mio schermo che dovreste vedere dovreste vedere tutti ci tengo a ringraziare personalmente anzitutto il professor giovanni carrosio che con cui appunto ha avuto l'opportunità di organizzare questa questa serie di di webinar e con i quali abbiamo con cui abbiamo anche lanciato proprio in questi giorni il sito internet relativo un po alle attività di ricerca che conduciamo vuo punto uniti s punto it slash eco welfare quindi il il sito sul del dedicato al gruppo di ricerca sull'eco welfare a fine presentazione poi porterò metterò link in chat ci tengo anche a ringraziare il centro inter dipartimentale giacomo ciamician per il supporto e il patrocinio a questa iniziativa in particolare il professor alessandro il coordinatore appunto del centro professor alessandro massi pavan quindi grazie davvero ai insomma ai collaboratori colleghi con cui è stato possibile realizzare questo insieme questo insieme di incontri di webinar prometto di essere molto rapido anche se non sempre ho il dono della sintesi ma farò del mio meglio quindi appunto come avevo come stavo dicendo poco fa una rapida introduzione sulla finalizzata a fornire un po di un po di linee guida insomma fornire le coordinate analitiche che ci permetteranno a tutti noi di addentrarci diciamo di orientarci al meglio in questo primo incontro e per le prossime per le successive tre settimane a partire da oggi quindi molto brevemente che cosa si intende per povertà energetica che cosa si intende con il termine eco welfare che caratterizza un po il sottotitolo di questa serie di webinar quattro webinar per una prospettiva ecosociale e poi il perché di questa serie di webinar che cosa intendiamo raggiungere cosa intendiamo anzi portare a casa da questo confronto con con i con i quattro esperti le quattro esperte perché per la maggior parte saranno quattro donne per ognuno degli incontri due uomini relativi invece anche al terzo incontro con RSE quindi molto rapidamente si ha una situazione una condizione di povertà energetica quando una famiglia un nucleo familiare non è in grado di garantire un livello una qualità dei servizi energetici ad uso domestico sufficienti per le proprie esigenze di tipo sociale e materiale questa è la traduzione di una definizione elaborata da uno dei principali studiosi a livello europeo di questo fenomeno stiamo quindi parlando di un oggetto di ricerca che ha una dimensione multidisciplinare e polisemica perché chiama in causa una pluralità una diversità di temi da un lato ci sono appunto questioni di carattere economico che riguardano il prezzo per i servizi energetici ma che riguardano anche il reddito delle famiglie chiamate appunto a sostenere le spese energetiche e questioni anche relative a variabili di contesto relative all'inefficienza energetica di alcun edificio delle apparecchiature che poi caratterizzano anche i consumi i consumi energetici con appunto delle ricadute tangibili sulle spese energetiche da parte delle famiglie nel dibattito nella letteratura di riferimento c'è una certa condivisione riguardo al fatto che non vi è una definizione univoca di povertà energetica o meglio l'unione europea in questo momento lascia agli stati membri una definizione che sia appropriata in base alla dimensione contestuale alle caratteristiche di riferimento di ciascun stato membro nel contesto italiano ad oggi per effetto diciamo delle indagini elaborate nel corso degli ultimi anni in riferimento alla senne al pniec e con riferimento anche agli studi svolti dalla banca d'italia dall'osservatorio italiano sulla povertà energetica si definisce povertà energetica come la difficoltà ad acquisire un paniere minimo di beni e servizi energetici o in alternativa un accesso ai servizi energetici che implica una distrazione di risorse in termini di spese di reddito superiore ad un determinato valore individuato come valore normale quindi la difficoltà ad acquisire a sostenere bene i servizi energetici senza appunto dover rinunciare ad altro quindi un po una una definizione che richiama in causa una domanda chiave che noi del gruppo di ricerca di eco welfare abbiamo acquisito come bussola ovvero se e a che cosa rinuncia un nucleo familiare per sostenere le proprie spese energetiche ovviamente noi ci stiamo dedicando soprattutto la dimensione domestica però c'è anche poi c'è anche l'uso industriale anche appunto altri spettri altre dimensioni relative al tema della della povertà energetica il vi sono poi differenti misurazioni riguardo a questo fenomeno una di quelle più note ereditate diciamo dal contesto anglosassone particolarmente pionieristico in tal senso fa riferimento all'identificazione di una situazione di povertà energetica nella situazione in cui le spese energetiche superano il 10 per cento del reddito a fronte del bisogno di tenere di mantenere una temperatura sui 21 gradi circa per la stanza principale del proprio ambiente domestico e di 18 gradi per le altre stanze e poi un approccio in realtà che è quello molto consolidato della cosiddetta low income high costs che misura la povertà energetica al verificarsi di due condizioni da un lato una spesa energetica superiore ad un determinato valore medio nazionale che cambia da nazione a nazione e una questione relativa invece al reddito che si verifica nel momento in cui il reddito al netto della spesa energetica è inferiore alla soglia di povertà rilevata da Eurostat ci sarebbe molto da dire su questa soglia individuata da Eurostat ma mi prenderei eccessivo tempo alcuni numeri con riferimento al contesto italiano per il 2019 l'osservatorio italiano sulla povertà energetica individuava un poco più di due milioni di famiglie in una condizione appunto di soggetto a queste criticità per l'anno 2020 quindi l'anno che coincide con diciamo il momento più difficile eh relativo all'evento pandemico l'otto per cento delle famiglie italiane si trovava in una condizione di povertà energetica e con riferimento ad uno scambio tra appunto i ricercatori della banca d'italia e eh il loro contributo in un in uno dei diversi incontri del organizzati dal forum disuguaglianza diversità possiamo vedere che in una serie storica che va dal 1997 al 2020 l'andamento è stato particolarmente fluttuante ma eh caratterizzato soprattutto da un aumento di questa percentuale di famiglie in povertà energetica soprattutto negli ultimi anni se vediamo poi il dato eh attraverso in una dimensione geografica vediamo da un lato il grafico per ripartizione tra Italia del nord ovest nord est centro sud e isole con quest'ultime che scontano appunto esperiscono una ehm diciamo una percentuale maggiore di 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 famiglie in povertà energetica e poi per ampiezza del comune dove il dato sembra un po' più omogeneo nella differenziazione tra aree metropolitane periferi o comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e altri comuni quindi quell'Italia di mezzo potremmo dire quell'Italia dell'urbanizzazione diffusa che appunto presenta un dato leggermente più alto in riferimento ai tre anni che vedete leggermente più alto in in un confronto con gli altri due contesti per ampiezza del comune eh che cosa si intende invece con eco welfare o meglio che cosa intendiamo noi con eco welfare perché appunto non è anche in questo caso non ci confrontiamo con un termine che ha una eh definizione ben precisa ma anzitutto l'idea di parlare di eco welfare prende forma da una constatazione dal fatto che la crescita delle disuguaglianze sociali nell'accesso a risorse nel sostenere le spese comprese le spese energetiche ma in generale la crescita delle disuguaglianze largamente intesa accelera il degrado ambientale e quegli elementi che eh contribuiscono appunto al degrado ambientale aumentano i tassi di deforestazione l'erosione della biodiversità le emissioni clima alteranti e l'esposizione al rischio idrogeologico questo è qualcosa che nel contesto italiano abbiamo potuto vedere in diverse regioni in in diversi contesti in tal senso quindi con eco welfare si intende una prospettiva è un campo di ricerca eh sufficientemente emergente che appunto eh inizia a consolidarsi a prendere forma quindi attraverso lo studio dei percorsi non solo di transizione energetica ma anche di eh relativi allo studio e alla complessità del cambiamento climatico con il fine di tenere insieme da un lato questioni di carattere ambientale quindi relative appunto all'esternalità negative incluse eh insite nei percorsi di accelerazione e crescita e che generano poi disuguaglianze e ambiti di studio di intervento tradizionalmente affrontati dal dallo spettro delle politiche sociali come appunto la povertà e le sue sfaccettature possiamo in maniera forse un po' rapida e banale vedere e leggere la povertà energetica come una sfaccettatura della povertà o come dice appunto un articolo molto paradigmatico di Brian De Bordman la povertà energetica è diversa dalla povertà eh tradizionalmente intesa come carenza di risorse economiche quindi per leggere la prospettiva la povertà energetica in una prospettiva ecosociale si affrontano diverse questioni appunto di carattere sociale relative appunto alle spese per beni e servizi energetici le leggibilità a beneficiare di interventi di misure di contrasto come i noti bonus elettrici e bonus gas eh la le attività di ricerca relative all'identificazione di nuclei familiari più vulnerabili a fronte della delle spese energetiche eh il filone di ricerca che riguarda il retrofitting energetico quindi gli interventi di adeguamento e da modernamento e in in ultima istanza ma non ultima anche la centralità di un approccio place based ovvero osservare quelle variabili di contesto che variano da contesto a contesto da contesto rurale a periferia urbana e che incidono sulla sulla povertà e sull'esacerbarsi della povertà energetica questi appunti di ricerca per poi muoversi attraverso un approccio che però possa eh andare forse oltre in un certo senso passatemi il termine la logica dei bonus cercando di affrontare alla radice il tema e l'esposizione da parte delle famiglie al rischio di povertà energetica cercando di individuare possibili percorsi per ridurre in realtà il fabbisogno energetico delle famiglie che speriscono questa condizione e per fornire al contempo strumenti in mano anche alle famiglie alla cittadinanza di produzione di energia rinnovabile individuando forme di autoconsumo collettivo eh a partire dallo scorso anno eh stiamo entrando in una stagione molto significativa per quanto riguarda lo sviluppo di comunità energetiche di comunità dell'energia rinnovabile l'Italia in tal senso ha avviato il ricevimento anticipato nelle direttive europee quindi ovviamente è un diciamo una nuova stagione un insieme di nuovi percorsi per la transizione energetica attraverso il consumo eh locale decentrato e lo sviluppo di comunità energetiche è qualcosa che appunto non possiamo eh non considerare all'interno dello di queste attività di studio e dello studio stesso della povertà energetica ehm perché questi webinar perché a fronte di una ricerca che noi come gruppo di ricerca che ecco welfare stiamo svolgendo a partire con avvio nel ormai nell'autunno diciamo del duemila e ventuno stiamo portando avanti una una ricerca appunto in tre condomini di edilizia residenziale pubblica nella città di di Trieste attraverso la somministrazione di un questionario cartaceo nei contesti a determinate famiglie che si rendono disponibili eh a diciamo a rispondere ad alcune domande a passare diciamo con noi un quarto d'ora per conoscere meglio i loro comportamenti anche appunto gli elementi di contesto eh che influenzano possono determinare una condizione di povertà energetica in tal senso utilizziamo quello che fra i tre approcci che ora appunto non non approfondisco nella nella specificità adottiamo quello che nella letteratura si chiama approccio consensuale ovvero eh valutare le condizioni dell'alloggio e le capacità anche dell'alloggio e della famiglia stessa di eh poter appunto eh sostenere le proprie spese energetiche banalmente l'approccio consensuale interroga il punto di vista della famiglia dell'abitante eh in relazione appunto ai ai consumi energetici a determinate condizioni situazioni socio economiche che possono esporre queste popolazioni determinate popolazioni al rischio al rischio di povertà energetica e in tal senso i contesti di edilizia residenziale pubblica anche per caratteristiche che insomma rendono forse più complicate percorsi di retrofitting energetico eh risultano particolarmente interessanti per indagare queste dimensioni a fronte del fatto che insomma come storicamente come è storicamente noto eh in questi contesti in queste periferie vi è diciamo solitamente un'ampia eh eh numerosità c'è una certa numerosità di famiglie in condizioni socio economiche o in condizioni economiche particolarmente 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 fragili. Alla luce di ciò quindi di questa attività di ricerca però abbiamo ritenuto interessante confrontarci con qualcosa che per noi era nuovo con prospettive che erano nuove che eh potrò possono fornire diciamo punti di vista o traiettorie di ricerca per noi inedite e che da vedendo cercando di vedere se e come possono rientrare all'interno o possono essere utili per costruire una prospettiva di eco welfare con riferimento al tema della povertà energetica quindi conoscere nuove prospettive nuovi filoni di ricerca le investigazioni svolti da organi di ricerca nazionali o europei come nel caso del del webinar di questo pomeriggio anche con riferimento anche all'ultimo incontro conoscere eh che cosa viene svolto nei paesi dell'Europa orientale post socialista che hanno diciamo degli elementi eh un po' data la centralità che stanno acquisendo all'interno dello studio della povertà energetica diciamo sono contesti da cui è stato sono stati prodotti diverse ricerche nel corso degli ultimi anno ci sembrava interessante vedere quali differenziazioni intercorrono tra questi contesti invece le le cosiddette western countries ecco l'Europa occidentale e come detto appunto osservare intrecci interazioni e eh terreni comuni da rendere sempre più fertili fra eco welfare ed altre ed altre prospettive di eh ricerca mi fermo qui eh rinnovando appunto i ringraziamenti ai ricercatori che mi accompagnano in questo percorso e con cui abbiamo organizzato questa iniziativa credo di poter quindi eh fermare la condivisione lasciandovi quindi il sito eh del gruppo di ricerca eco welfare che potete iniziare a consultare per conoscere meglio che cosa stiamo facendo e per rimanere aggiornati anche sui prossimi webinar credo di aver fermato la mia eh condivisione quindi eh cedo ora la parola alla alla nostra ospite a Nives della Valle del General Search Center di Ispra. Grazie a tutti e grazie Nives ovviamente. Eccoci. Grazie mille Lorenzo per questa magnifica presentazione e al professor Carosi ovviamente per per la possibilità di presentare oggi. Intanto prima di cominciare vediamo di riuscire a condividere lo schermo che abbiamo visto. Non è una questione così scontata. Quindi vediamo. Iniziamo sia a vedere il tuo powerpoint ora serviva un passaggio di scala in più. Perfetto perfetto. Si vede? La parola si vede benissimo grazie. Perfetto. Eccoci qui quindi grazie ancora per per questa opportunità e anche soprattutto l'opportunità di di cominciare questa serie di di webinar quindi speriamo di di fornire delle delle informazioni interessanti e anche magari di di interagire successivamente in una discussione eh alla fine della presentazione. Io non vedo commenti quindi se dovessero esserci domande magari Lorenzo mi dici tu sì insomma altrimenti lasciamo le varie domande alla fine. Sì io farei il Q&A verso la fine ovviamente a meno che proprio non ci siano delle curiosità da da soddisfare immediatamente però credo che appunto possiamo tenerci un momento in seguito alla presentazione anche se tutti se tutti i partecipanti sono d'accordo quindi direi sì di procedere così. Perfetto quindi eh come vedrete dal titolo appunto questo è una visione molto specifica della problematica della povertà energetica che attraverso la lente dell'economia comportamentale senza tediarvi troppo sul mio background ma giusto per capire un po' anche e i probabili bias nella nella spiegazione di di questa problematica eh fornisco il disclaimer del del mio background disciplinare che è proprio quello di economia comportamentale sperimentale. Ciò nonostante mi definisco una scienziata sociale che eh che utilizza spesso anche delle prospettive interdisciplinari interagendo anche con sociologi e e e quindi eh noterete appunto magari nel corso della presentazione anche il risultato di di queste di queste interazioni negli studi che vi presenterò. Prima di cominciare eh volevo anche eh spiegare appunto dove dove lavoro appunto che il Joint Research Center è un DG della Commissione europea che eh che si trova principalmente a Bruxelles ma ci sono anche delle delle sedi sparse un po' in tutta Europa e eh io mi trovo nella sede più grande che è quella di Ispra eh sul Lago Maggiore e in tutto siamo tremila di cercatori dipendenti di quel settanta per cento di cercatori e il compito del GRC è quello di fornire comunque delle evidenze scientifiche eh che eh vanno a supportare tutti i DG, i direttorati generali che producono i documenti politici a Bruxelles e che riguardano qualsiasi problematica politica e eh e questo eh va a intaccare tutto il il ciclo politico e quindi anche una 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 responsabilità perché si va a fornire comunque un'evidenza scientifica in modo da essere accountable anche nei confronti dei dei cittadini europei ed in particolar modo io eh lavoro nella nell'unità di efficienza energetica di energie rinnovabili e eh ovviamente potrete immaginare che eh anche qui ci sono diversi ricercatori siamo circa una cinquantina di di ricercatori da un background abbastanza variegato la maggioranza comunque ha un background molto tecnico e e c'è chi si occupa appunto della produzione eh ricerca di eh pannelli solari e di efficienza energetica e e e qui eh ovviamente eh non c'è soltanto la componente tecnica ma anche la componente proprio di scienze sociali quindi eh non soltanto che guarda all'acceptability di queste misure che è abbastanza eh se vogliamo un approccio tecnico ma anche quello che cerca di eh eh capire quelle che sono delle problematiche anche più sociali che che circondano queste misure eh che sono a al centro della della transizione energetica ed è in questo contesto che appunto si ehm si interfaccia la la mia linea di ricerca che eh appunto una delle delle diverse linee di ricerca è proprio eh la la povertà energetica attraverso soprattutto la lente della del mio background disciplinare che come dicevo è economia comportamentale e eh questa è un po' la scaletta della della presentazione e cercherà di non essere ripetitiva rispetto a quanto presentato da Lorenzo in modo eh davvero impeccabile e onnicomprensivo su cosa è effettivamente questa tematica della povertà energetica e introdurremo anche un 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 successivo livello di complessità se vogliamo che è quello del quadro della giustizia energetica successivamente eh faremo un overview abbastanza generale sulle eh sulle categorie di misure che sono finora adottate per affrontare appunto questa problematica della povertà energetica eh in Europa e e e poi il centro proprio della di questo contributo sarà attraverso la la lente dell'economia comportamentale che permette di capire effettivamente meglio il problema della della povertà energetica e probabilmente ci permette anche di identificare ulteriori misure per per affrontare questa problematica. Infine andremo oltre quella che è la principale applicazione politica dell'economia comportamentale alle varie problematiche come la povertà energetica che è il cosiddetto nage di cui magari avrete già sentito parlare introducendo un altro concetto che è quello della cittadinanza energetica. Quindi eh la povertà energetica in Europa quindi ci troviamo in Europa e non nei 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 paesi in via di sviluppo perché ovviamente si tratta di problematiche che spesso assumono lo stesso nome ma che sono totalmente diverse perché eh nei paesi in via di sviluppo si parla proprio di mancanza di accesso al all'elettricità proprio basilare quindi si tratta proprio di eh si riconduce più che altro proprio alla all'accesso al rinnegato se vogliamo a persone eh che generalmente non non possono accedere a eh non possono soddisfare i bisogni eh principali. In Europa invece qui e così come nei nei paesi più sviluppati il problema appunto si ricollega più alla possibilità di accedere ad un eh ad un insieme di servizi energetici eh domestici quindi ci troviamo di nuovo nel contesto domestico non industriale come eh citava prima anche Lorenzo e eh e che quindi fa riferimento a questo insieme di servizi energetici che eh permettono alle alle persone comunque di eh realizzarsi in quanto tali. Eh tra i tanti approcci con cui si eh si analizza anche il problema della povertà energetica c'è anche quello delle capability eh chi conosce Marta Sena sa di di cosa stiamo parlando perché appunto l'energia permette alle persone di realizzarsi e di di realizzare le le proprie eh i propri eh le proprie eh le proprie capability e functioning. E eh è sicuramente un complesso un problema molto complesso e qui eh ho preso in prestito questa mappa di uno dei eh lavori più recenti di Busarovski uno dei principali ricercatori insieme a Thompson che ha dato proprio eh il via a questo filone di ricerca sulla povertà energetica partendo dal da Regno Unito e che ha permesso successivamente anche di creare abbastanza rumore non solo a livello accademico ma anche a livello politico e e quindi dobbiamo davvero tanto questi ricercatori. In ogni caso questa mappa quello che dimostra è una dimensione della povertà energetica è quella dell'impossibilità di ehm tenere abbastanza riscaldata la la propria casa. E qui cominciamo a chiederci però se questa mappa eh ci soddisfa perché come anche Lorenzo ha anticipato prima questo è un problema multidimensionale. Se pensiamo infatti ai paesi eh comunque più caldi come quelli mediterranei probabilmente andrebbe eh inserito anche la problematica del raffrescamento e quindi già la componente climatica aggiunge un livello di complessità che dovrebbe essere eh eh dovrebbe emergere da eh da questi famosi indicatori di cui si parlava prima e su cui sicuramente c'è un enorme filone di ricerca eh che eh che ci ci offre tantissimi spunti. E in ogni caso questo è soltanto per eh suggerire che il problema è complesso e sicuramente c'è eh ci sono dei problemi di di misurazioni e che che chiamano anche eh a sé il successivo problema di come definire questo questo problema ed è effettivamente anche una scelta politica perché in base agli indicatori che si usano ovviamente si andranno a preferire eh determinate misure eh invece di altre. E anche per questo che eh al momento a livello europeo eh si sta cercando di eh collaborare molto anche con quelli che sono gli attori locali attraverso questo European Poverty Advisory Hub per cercare insieme anche di capire la complessità della manifestazione di questo fenomeno complesso e anche di cercare delle misure che siano calate nel contesto specifico quindi su questo c'è che c'è tanto da fare e si sta facendo. In ogni caso eh questa è anche una definizione che appunto ha mostrato prima Lorenzo possiamo eh definire in questo modo la povertà energetica come una l'impossibilità di assicurarsi questo livello necessario di servizi energetici che eh che va a soddisfare queste esigenze eh materiali e sociali e e quindi questa è una diciamo una definizione che almeno a livello accademico è abbastanza diceva abbastanza consenso e eh quindi dicevo che eh aggiungeremo adesso un altro livello di complessità eh ma se vogliamo può anche essere un modo per eh identificare quelle che sono delle potenziali condizioni di di povertà energetica e che potrebbero supportare anche decisori politici. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che è la lente della eh giustizia eh energetica e eh questa lente appunto eh sia usata da decisori politici potrebbe eh cercare anche di eh migliorare quelli che sono i processi decisionali e su quelli che sono gli interventi che potrebbero essere implementati in nei contesti di di riferimento. Secondo Walker and Day che sono appunto i eh i ricercatori chiave di di questo framework della della povertà energetica. La povertà energetica è in realtà possiamo definirlo come un problema complesso di diseguagliazza distributiva e quando si parla anche delle possibili interazioni con eh questo eh filone di ricerca che eh che appunto dell'eco welfare che che menzionava Lorenzo ho pensato a a anche a a a questa eh relazione che c'è tra le diseguaglianze la probabilità eh che che ha la aumentata probabilità di eh di ricadere nelle condizioni di di povertà energetica. In realtà non si sceglie di ovviamente di essere energy poor ma eh ci si ritrova in queste condizioni perché eh si è costretti comunque a subire delle condizioni di di diseguaglianza e in primis distributiva. Quando parliamo di eh distribuzioni che quindi sono caratterizzate da diseguaglianza facciamo riferimento in particolare a tre fattori e sempre citando Walter and Day quindi eh in genere possiamo identificare come eh famiglie o individui che sono vulnerabili o già sono in una condizione di povertà energetica quando subiscono delle si trovano a fronteggiare delle situazioni di diseguaglianza distributiva nel reddito nei passi energetici e nella eh disponibilità eh nel possedere proprio delle delle abitazioni, delle apparecchiature che sono ehm efficienti a livello energetico e eh e anche di vivere in abitazioni che siano efficienti a livello energetico. Quindi eh diciamo che eh l'insieme di queste tre ehm forme di diseguaglianza non fa altro che creare questa condizione di vulnerabilità alla povertà eh energetica. e eh questa eh condizione di diseguaglianza molto spesso è anche corroborata da ulteriori eh due forme di diseguaglianza che eh nel contesto del framework della povertà della giustizia energetica sono definite come recognition justice e procedural justice. Ciò vuol dire che ci si ritrova già in questa condizione di eh di eh diseguaglianza distributiva e la probabilità di ritrovarsi ad essere energy poor è aumentata anche dal fatto di non poter far riconoscere al sistema energetico il fatto di avere dei bisogni energetici eh energetici specifici. Di solito di energia pur infatti sono delle categorie eh della popolazione che sono socialmente politicamente marginalizzate e quindi questo li porta a a non eh poter far riconoscere questi bisogni specifici eh energetici. Pensiamo per esempio ai disabili oppure a delle eh mamme single. Eh queste sono generalmente delle categorie che eh magari hanno dei bisogni energetici specifici ma che non hanno abbastanza potere proprio per farli riconoscere dal sistema energetico e si trovano costretti a pagare una cosiddetta penalty perché eh appunto questi bisogni non sono eh riconosciuti dal dal sistema. E ovviamente questa recognition injustice è altamente correlata a quella che è la procedural injustice che subiscono gli energy poor. Il fatto appunto di essere marginal eh socialmente e politicamente marginalizzati vuol dire proprio che eh queste categorie di persone non hanno il potere di o la capacità di eh partecipare a quelli che sono i processi decisionali chiave che vanno a plasmare il sistema energetico. Pensiamo semplicemente a quelle che sono le tariffe energetiche. Se lo se fossero invece capaci o se gli fosse data la possibilità di partecipare a questi eh processi decisionali probabilmente avrebbero anche la eh la capacità di dar voce a questi bisogni energetici specifici e probabilmente il sistema energetico sarebbe disegnato in un modo tale che eh che appunto i livelli di eh energia eh necessari per raggiungere quelle che sono le esigenze materiali sociali di cui dicevamo prima poi eh un giorno possano essere eh raggiunti in modo eco. E eh quindi adesso passiamo sicuramente a quello che eh si sta facendo per ehm cercare di attenuare eh la povertà energetica ma soprattutto che cercano di ridurre alcune delle diseguaglianze distributive che gli energy poor si trovano a a conteggiare e sicuramente qui eh vado a ripetere alcune delle informazioni già date da da Lorenzo ma possiamo categorizzarle e qui comprende in prestito la la categorizzazione di PAI e eh e qui possiamo categorizzarle in misure di protezione dei consumatori e quindi cercano di garantire questo accesso ai ai livelli energetici eh semplicemente andando a rendere un sistema energetico eh non più giusto ma comunque se vogliamo più umano per esempio la 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 garanzia di disconnessione è un esempio eh lampante perché quando non si ha la possibilità si subisce questa diseguaglianza distributiva nel reddito e se costretti a non poter pagare eh le bollette alla fine poi non si è in grado di vivere una vita dignitosa e quindi eh la garanzia di disconnessione è sicuramente una una misura molto importante da questo punto di vista. i programmi di efficientamento energetico anche menzionati prima sono un altro un altro esempio che cerca di andare a risolvere quelle che sono le diseguaglianze di distribuzione in questo caso della dell'efficienza energetica eh delle abitazioni e sicuramente a livello europeo la renovation wave di cui sicuramente avrete sentito parlare eh ha assunto un ruolo eh e sta assumendo un ruolo molto importante e anche la la proposta di revisione della direttiva dell'energy performance dei dei edifici anche qui ricopre un ruolo eh molto importante perché quello che si fa è cercare sicuramente di andare a migliorare l'efficienza energetica del dei edifici e questo è anche positivo per l'ambiente perché si va a ridurre le emissioni ma sicuramente a livello sociale della povertà energetica si va anche a cercare di ehm risolvere quelli che sono dei problemi ehm abbastanza se vogliamo di potere i cosiddetti ehm le le dinamiche che intercorrono tra eh gli affittuari e e e proprietari e tendenzialmente gli energy pur possono essere affittuari che non hanno il potere di efficientare oltre che le finanze di efficientare la propria abitazione e quello che si sta facendo con questa proposta di revisione è anche quello di eh cercare di stabilire degli standard minimi di efficienza energetica per cui bisogna eh a cui bisogna semplicemente conformarsi quindi i proprietari in questo caso ricevono un'obbligazione dall'atto e e non possono fare altrimenti e quindi lo standard in questo caso oltre che il programma proprio che cerca come la Rish Innovation Wave di promuovere efficientamento energetico sicuramente possono andare a risolvere questi problemi eh di diseguolenza distributiva nella dell'efficienza dell'efficienza energetica e eh ho segnalato qui il ruo sulle misure finanziarie, misure di consapevolezza e di informazione perché vanno un po' a rinquadrarsi in quello che è il focus anche un po' del nel mio lavoro che va anche un po' ad inquadrarsi nell'approccio eh che eh che quello che eh l'eco welfare probabilmente cerca di eh di di inquadrarsi è quello dell'approccio che guarda alla capacità anche delle delle persone di eh di far fronte a questa problematica delle delle della povertà energetica e eh quindi attraverso l'azione delle delle persone se vogliamo quindi eh sicuramente eh le persone stesse possono eh cercare di eh permettersi a questi livelli di eh energia eh se eh vengono supportate da misure di di sostegno economico e quindi pensiamo semplicemente ai bonus citati prima e anche adesso implementati in Italia e anche le misure di consapevolezza e programmi di informazione che cercano di eh far ridurre anche un po' il l'abbisogno energetico del delle famiglie e eh non solo ma anche cercando di eh informare su potenziali alternative più convenienti come delle tariffe di di mercato ma anche per esempio l'adozione di determinate tecnologie che 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 possano essere più eh consone non solo alla salute non solo all'ambiente ma ma anche alla salute delle persone e al loro portafoglio come quello appunto dell'efficienza energetica e eh qui eh introduciamo finalmente quindi l'approccio la la lente dell'economia comportamentale giusto per dire che se vogliamo effettivamente far leva sulle capacità delle persone stesse eh nel cercare di risolvere anche le problematiche che vivono eh allora dobbiamo eh immaginare appunto come queste persone si eh si comportano quando eh le politiche vengono messe in essere dai decisori politici e quando facciamo riferimento alle misure che abbiamo visto prima come quelle finanziarie ed informazioni di solito qui stiamo assumendo eh dei determinati modi di comportamento che le persone assumono e queste sono infatti sono delle misure che eh nel gergo economico vengono definite tradizionali e e assumono che le persone semplicemente decidono di cambiare eh di assumere un determinato comportamento ottimale dal punto di vista politico eh che quindi socialmente è individualmente ottimale come appunto l'adozione di una tecnologia che sia efficiente a livello energetico oppure lo switching eh rispetto ad una tariffa che sia eh più conveniente per l'individuo ma magari anche più eh benefica per l'ambiente come una tariffa che che si basi sulle risorse eh risorse eh rinnovabili. In questo caso quello che fa il decisore politico è assumere che eh queste persone vadano semplicemente incentivate attraverso appunto dei meccanismi eh eh finanziari eh e degli incentivi finanziari eh proprio monetari o dando più informazioni. Questo perché si assume che eh possono assumere questo comportamento in quanto queste persone sono in grado di ehm di lanciare tutte le possibili conseguenze associate a corsi d'azione eh simili e alternativi eh sempre e eh usando sempre tutte le risorse cognitive a disposizione. Questo è comunque il cosiddetto modello dell'attore razionale del comportamento umano che senza tediarvi troppo comunque è stato alla base del eh del disegno delle politiche eh eh economiche eh fino a qualche decennio dovevo fare diciamo. E eh fortunatamente comunque sappiamo bene che eh in realtà le persone per essere motivate a eh assumere dei comportamenti alternativi eh comunque non eh non necessitano soltanto di maggiori informazioni o comunque maggiori incentivi monetari ma dalla nostra esperienza quotidiana sappiamo che eh le persone sono motivate anche da da ben alti fattori e quindi l'evidenza empirica che ha collezionato eh tutta la il campo della dell'economia sperimentale ci ha permesso comunque di eh collezionare un'evidenza tale per cui si potesse poi andare ad informare quelle che sono anche le le decisioni politiche perché eh appunto si è stabilito anche quelle che sono delle relazioni di causa effetto per cui si è dimostrato che le persone non hanno effettivamente eh queste risorse eh cognitive limitate per eh per eh eh per decidere in modo ottimale per se stesso e per la società ma tendenzialmente eh ci sono dei fattori eh proprio del contesto che vanno a deteriorare parte delle nostre risorse cognitive e che ci portano a compiere delle decisioni tendenzialmente intuitive e non necessariamente ottimali per noi e per la società e eh e quello che si fa è che quando si vanno a a prendere queste decisioni in modo intuitivo ci sono dei meccanismi cognitivi che in modo sistematico possono ehm ricoprire un ruolo un ruolo più o meno maggiore ed è proprio su questi meccanismi cognitivi che successivamente andremo a a che che successivamente andremo ad approfondire tra i vari fattori del contesto che eh che possiamo citare che vanno a deteriorare queste risorse cognitive limitate sicuramente c'è eh giusto per fare un esempio della vita quotidiana la mancanza di sonno e e questa idea di scarsità comunque ci eh ci riporta eh alla problematica della povertà energetica perché di diverse tipologie di scarsità in realtà stiamo parlando e come abbiamo visto prima comunque la eh per esempio la scarsità economica sicuramente è una delle principali cause di questo fenomeno e quindi tra eh queste diseguaglianze distributive che comunque generano una situazione di scarsità possiamo quindi eh introdurre in questo caso la eh il contributo potenziale della dell'economia comportamentale nel cercare anche di capire meglio la problematica stessa della povertà energetica quindi eh quello che succede è che queste diseguaglianze distributive esasperano l'influenza di alcuni meccanismi cognitivi sulla qualità delle decisioni e energetiche in questo caso ad esempio eh ci può essere la tendenza la cosiddetta tendenza a preferire lo status quo che tendenzialmente tutti noi esseri umani eh condividiamo ma che può essere resa più o meno potente quando appunto siamo eh ci ritroviamo in una condizione di di scarsità eh di di risorse cognitive quello che poi ehm va a a a crea a causare questa influenza del questo ruolo del pregiudizio dello status quo è che per esempio si eh si va a preferire delle eh opzioni che non sono così ottimali per per la famiglia o per la persona come per esempio la eh si va a preferire una tariffa eh energetica che eh non è per niente conveniente per la persona ma anche per la paura di eh pronto di entrare eh di agire e di eh anche per la paura di eh ricevere una bolletta più alta perché magari se ha un'incertezza del di quello che potrebbe succedere si eh non si va a preferire questa tariffa più conveniente pur conoscendo l'esistenza di questa alta tariffa e si può dire lo stesso per una apparecchiatura che fornisce un servizio energetico eh pari merito ma che però è anche più efficiente che quindi nel nel futuro potrebbe conferire di di risparmio anche a livello di portafoglio. È un altro meccanismo che potrebbe andare ad influenzare la qualità delle nostre eh decisioni è quello delle norme sociali quindi il nostro comportamento sicuramente non si basa eh non è influenzato solo dalla presenza di informazioni di incentivi monetari ma anche da quello che fanno o che pensiamo facciano e provano i nostri simili e quello che può questo meccanismo va quello che questo meccanismo potrebbe andare a causare poi nel contesto energetico è per esempio quello di ehm non adottare delle pratiche tecnologie energetiche ehm per paura di essere stigmatizzati dai propri simili. Ad esempio si è stato implementato un programma che va a targetizzare soprattutto dei eh dei partiti a basso reddito attraverso l'efficientamento eh o attraverso l'approvvigionamento di determinate tecnologie e eh sì si va a generare questa voce che queste tecnologie sono soltanto per i poveracci e quindi si va a creare effettivamente uno stigma e e e quindi le persone ovviamente tendono ad adottarle. Questo eh si è evidenza da uno studio condotto da Sova con un altro ricercatore di cui probabilmente conoscete il nome ehm nell'ambito della della ricerca energetica eh e della relazione con le scienze sociali. Questa è comunque la parte se vogliamo eh che ci far riflettere sul ruolo dei 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 meccanismi cognitivi sulla qualità delle decisioni energetiche ma quello che vogliamo fare è anche cercare di utilizzare eh questa eh evidenza su il ruolo di questi meccanismi subcognitivi anche per cercare di risolvere il problema della della povertà energetica e come possiamo farlo eh ovviamente abbiamo detto il nudging di cui probabilmente avete sentito parlare è una delle principali applicazioni dell'economia comportamentale problemi politici. Possiamo pensare eh qualsiasi problema politico a partire dalla donazione degli organi all'iscrizione ai sistemi agli schemi pensionistici e qui possiamo anche pensare un'applicazione nel contesto della povertà energetica. Cos'è questo nudging? È semplicemente un cercare di eh disegnare un contesto decisionale facendo leva proprio su questi meccanismi cognitivi che abbiamo visto prima come per esempio il pregiudizio dello status quo o le norme sociali per cercare di ehm indurde se vogliamo le persone a compiere dei eh delle decisioni che siano ottimali per loro stesse e per la società. Sicuramente qui si può aprire un dibattito lunghissimo su ehm anche l'etica che c'è dietro il nudging ehm ma se vogliamo anche associarlo un po' ehm al marketing di cui sicuramente eh potrebbe condividere qualche eh qualche motivazione sicuramente va a a a giustificare l'utilizzo da parte del decisore politico in quanto l'obiettivo è politico e non va ad aumentare il profitto delle imprese o di di pochi e eh comunque eh cerca sempre di lasciare libera la persona di eh di scegliere un'alternativa quindi sicuramente dal punto di vista della libertà questi e questi interventi sono più o se vogliamo libertari rispetto a quelli che sono dei eh altri interventi tradizionali e politici come per esempio eh i ban e eh per esempio le tasse. E eh quando veniamo alla questione della povertà energetica facciamo riferimento qui alle opzioni di default che fanno leva sul proprio sul pregiudizio dello status quo. Quindi quello che succede è che si preferisce non agire piuttosto che agire. Cosa possiamo fare per gli energy poor? In questo caso per esempio la predisposizione di bonus abbiamo visto che può essere un semplice meccanismo per aiutare comunque la eh le persone a permettersi eh i livelli eh energetici eh basilari e però già solo il fatto di dover fare domanda capire come fare domanda questo richiede comunque eh delle risorse cognitive e queste risorse cognitive potrebbero essere utilizzate dalle persone per altre decisioni complesse che 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 richiedono eh eh comunque più eh comunque più più sforzo mentale. Quindi si può cercare di eh rendere automatico l'iscrizione a questi programmi di di supporto e e quindi questo è un semplice è un semplice intervento che eh che appunto potrebbe eh cercare di eh lasciare valide queste risorse cognitive per altre per altre risorse e indirettamente eh parzialmente risolvere questo questo problema ed è stato anche citato nell'ultima raccomandazione della della povertà energetica della commissione d'ottobre duemilaventi e come appunto potenziale esempio per cercare proprio di di migliorare l'implementazione di interventi eh che mirano ad affrontare questo problema. Ovviamente ci sono tanti limiti perché come abbiamo visto prima identificare gli energy pur è eh abbastanza problematico e quindi eh sicuramente per identificare gli energy pur e rendere automatico questa iscrizione ai sistemi di di sussidio di bonus eh sicuramente c'è ancora tanto da fare però è da tenere sicuramente in considerazione. Un'altra eh applicazione di nudging alla questione della povertà energetica è quello che fa leva sulle norme sociali appunto le persone potrebbero ridurre il loro fabbisogno energetico in primis eh attraverso l'utilizzo eh della dell'efficientamento energetico che che viene implementato attraverso il retrofitting come appunto si diceva prima eh e eh questo sicuramente va eh non solo a ridurre il fabbisogno energetico ma quindi va anche a migliorare quelle che sono le capacità finanziarie delle persone. E eh non è detto però che eh gli interventi di retrofitting siano efficaci ovvero vadano a realizzare quelle che sono le stime attese dai tecnici che vanno a disegnare queste questi interventi di retrofitting come quelle stime che calcolano i miei colleghi ingegneri perché alla fine è quello che va a realizzare eh queste eh stime di eh di risparmio energetico non è soltanto l'intervento ma anche la la persona stessa che che va a interfacciarsi quotidianamente con questa con questa eh eh questo nuovo o nuova tecnologia come può essere per esempio l'intanto di ventilazione automatica ad esempio. E e quindi quello che poi si va a realizzare il cosiddetto energy performance gap che è quindi questo gap tra quello che è la performance attesa energetica e quella che poi si va effettivamente a realizzare. E questo succede perché appunto le persone si interfacciano con queste tecnologie non necessariamente in modo ottimale e questo succede tra le tante ragioni anche perché non si ha un accesso facile a quello che è il eh il livello di energia che si sta consumando attraverso l'utilizzo delle diverse tecnologie e e l'energia infatti ha un bene invisibile. Quindi quello che si potrebbe fare è cercare di fornire informazione attraverso il cosiddetto feedback ma come abbiamo visto prima non è detto che fornire informazioni dia e quindi aumentare la consapevolezza cambi il comportamento atteso nella direzione desiderata in questo caso desiderata da 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 interventi tecnici per realizzare questi famosi risparmi energetici. E quindi quello che si può fare è cercare di fornire una motivazione per cercare di ehm implementare questo comportamento atteso attraverso l'utilizzo della delle ehm informazioni che eh contengono delle norme sociali o che rendono salienti quello che eh che le persone potrebbero pensare facciano i propri simili e che sono reputate comunque accettabili dai propri simili. E qui cito un lavoro che comunque ehm condotto insieme al mio locatore Caballero nel mio precedente lavoro in Eurac che è un centro di ricerca ehm Bolzano attraverso ehm nel contesto del progetto europeo Sinfonia quello che abbiamo fatto è ehm stato implementare eh successivamente a degli interventi di eh retrofitting di eh distretti di eh di vista sociale di Balzano eh abbiamo anche ehm installato quella che che sono questi display che real time mandavano delle queste informazioni sul proprio consumo energetico e eh e per utilizzare questa potenza delle delle norme sociali abbiamo anche inserito quelle che sono le informazioni sul consumo energetico dei eh dei simili. Questo eh proprio per cercare di eh di rendere salenti la norma sociale e abbiamo anche cercato di introdurre dei simboli che cercassero di ehm ricordare l'accettabilità di questi comportamenti con delle semplici emoti. Questo è stato diciamo un eh un intervento che è stato largamente eh investigato nelle popolazioni se vogliamo che sono normali o comunque eh di eh medio alto reddito eh in tutto il mondo a partire dalla California che è stato ehm dimostrato eh abbastanza efficace nel ridurre il consumo energetico ma non era mai stato testato in un contesto di eh di edilizia pubblica quindi abbiamo cercato di dare il nostro contributo tuttavia le eh le osservazioni a disposizione non ci hanno ancora dato dei dei risultati eh statisticamente eh interessanti ma comunque metodologicamente il il lavoro è stato eh prezzato eh e quindi trovate anche il riferimento al paper. Quello che abbiamo fatto finora è quindi cercare di vedere come le persone che si trovano in una potenziale o si trovano già in una condizione di povertà energetica possono cercare di risolvere con i propri comportamenti eh questa condizione problematica che eh se vogliamo può essere abbastanza eh eh discussa, discutibile e questo perché stiamo comunque parlando di una categoria di persone che non ha scelto sicuramente di vivere in questa condizione come dicevamo prima e eh in realtà ci si ritrova perché subisce delle condizioni di diseguaglianze in primis distributive e eh e poi anche di eh di eh di eh diseguaglianze procedurali di riconoscimento oltre al fatto che la capacità stessa di queste persone non dipende soltanto da la loro capacità cognitiva che eh che appunto eh viene deteriorata da questo contesto di scarsità subottimale, ma questa capacità viene anche plasmata da asimmetrie nel potere stesso. Abbiamo fatto riferimento prima al rapporto che c'è per esempio tra affittuali e proprietari. Quindi ci facciamo due domande, nel senso vogliamo veramente far leva sui comportamenti degli energy poor e vogliamo veramente responsabilizzarli ulteriormente rispetto a tutte le altre problematiche che già sono costrette a fronteggiare e quindi nel farci tutte queste domande ci rendiamo conto che in realtà oltre a cercare comunque di migliorare la propria condizione, se vogliamo anche far essere protagonisti anche in una transizione energetica, allora gli energy poor non possono essere incoraggiati soltanto a consumare meglio, quindi per esempio a scegliere tra dei migliori, ridurre il proprio consumo energetico che come ha anche accenato prima Lorenzo, molto spesso può anche essere al centro di un trade off rispetto a bisogni primari, quindi magari ci sono anche degli energy poor che sono totalmente invisibili perché decidono di tagliare completamente il consumo energetico perché ci sono altri bisogni primari che in questo caso per loro sono più prioritari come per esempio il trasporto semplicemente il cibo e quindi in questo caso quello che vogliamo dire è che gli energy poor per anche essere protagonisti non solo della transizione energetica ma anche del miglioramento delle proprie condizioni, allora dovrebbero essere incoraggiati anche a diventare attori sociali e politici e questo nella speranza anche di rendere il sistema energetico proprio più eco. e quindi usciamo finalmente da questo contesto che guarda le persone soltanto come consumatori e invece entriamo nel contesto che cerca di guardare le persone proprio come cittadine energetiche e se vogliamo anche ricordare la filosofia rentiana proprio di cittadinanza pura. siamo nel contesto energetico perché cerchiamo qui di promuovere comunque quelle che sono delle azioni sociali e politiche che vanno a plasmare soprattutto il sistema energetico. e come in questo caso l'economia comportamentale può contribuire, se può contribuire, in questo caso attraverso un'altra tipologia di applicazione che va a complementare se vogliamo quella del nudging ma che è forse più eticamente digeribile se vogliamo e che è abbastanza specifica proprio per i contesti di vulnerabilità come quelli di cui stiamo qui discutendo. cosa fanno questi boosting e semplicemente innanzitutto cerca di conoscere che le persone sicuramente hanno delle risorse cognitive la mente è costituita da determinati limiti ma la mente può anche essere rinforzata per compiere delle azioni che siano sempre migliori per la società e per se stessi quindi qui si va un po' più verso la direzione di nuovo delle capability perché in pratica quello che fa l'approccio del boosting è di infondere delle competenze centrali che poi le persone decidono di utilizzare come vogliono nelle sfere che più hanno bisogno quindi non si va a indurre le persone a scegliere determinati comportamenti ma si va proprio ad infondere delle competenze chiave e quando si va a parlare quindi del contesto della povertà energetica facciamo riferimento e questo è un altro paper con Siddharth Sarin che appunto qui facciamo riferimento a ci sono diversi esempi ma qui ne ho preso due nella fattispecie si potrebbe implementare un intervento di boosting in forma di formazione sull'energia e sui rischi e per esempio anche formazioni sulle capacità deliberative queste potrebbero essere delle competenze chiave proprio per andare a sbloccare questo ruolo un po' più ampio che va oltre il ruolo del consumatore e va anche un po' a promuovere questo ruolo di cittadino energetico come quindi per esempio la formazione sull'energia e sui rischi potrebbe aumentare la consapevolezza della povertà energetica come proprio problema e anche una maggiore comprensione dei rischi associati perché molto spesso non si ha una consapevolezza proprio della problematica in sé per sé e la formazione anche sulle capacità deliberative ovvero interagendo creando degli spazi dove interagire sull'energia in modo più politico in modo tale da poi poter rivendicare dei diritti energetici e anche la responsabilità di chi ha il potere di decidere a partire dal proprietario ma così come se vogliamo gli attori locali e in un altro lavoro che adesso è under review che guarda proprio alla relazione tra la cittadinanza energetica attraverso la lente della giustizia energetica e l'empowerment abbiamo cercato di identificare dei canali proprio dei casi studio, proprio dei canali pratici già in essere che possano appunto promuovere questo ruolo di cittadino energetico è un lavoro comunque che è andato a divisionare diversi progetti europei e studi accademici relativi al tema e che è quello qui appunto abbiamo identificato diversi canali che possono andare a promuovere questo ruolo di cittadino energetico ma qui ne riporto due che penso siano interessanti anche per ricollegarci a quanto discusso finora che appunto sono questi dialoghi energetici negli energi caffè gli energi caffè sono delle iniziative dal basso che creano questo spazio per discutere dell'energia in modo più politico a partire dalla bolletta energetica che diventa un oggetto politico che coinvolge i cittadini nel comunque meditare sui propri problemi energetici per poi andare a discutere di problemi più ampi per esempio sul cambiamento climatico sull'equità al futuro della comunità quindi questo se vogliamo aleatoriamente può essere visto come un modo per boost queste competenze capacità deliberative di cui dicevamo prima e chiudo con questa slide con un altro tema su cui Lorenzo e il professor Carrioso poi avranno anche tanto da dire ma come anche accenato prima da Lorenzo sicuramente le comunità energetiche hanno un enorme potenziale per risolvere il problema della povertà energetica e anche per realizzare questo ruolo di cittadino energetico perché quello che si fa è che si dà il possesso delle risorse energetiche proprio alle persone quindi questo dal punto di vista della creazione di un sistema energetico più eco è sicuramente l'emblema per eccellenza quello che però abbiamo trovato nel nostro studio è che nonostante questo enorme potenziale almeno guardando al nostro campione limitato e che comunque i casi a disposizione che vanno a coinvolgere attivamente i poveri energetici o che espressamente mirano a risolvere questa problematica sono in realtà solo una minoranza e questo perché ci sono ancora tantissime barriere legali proprio nell'iniziare queste iniziative nobili sia per l'ambiente che per la società e anche per delle percezioni errate anche sugli energy poor perché abbiamo proprio riscontrato che in alcuni casi studio non si rinunciava a coinvolgere gli energy poor o anche si rinunciava a coinvolgere nel processo decisionale perché si pensava non fossero interessati quindi questo è anche abbastanza interessante. In ogni caso alla destra di questo slide vedete uno dei primi esempi in Italia di comunità energetica che espressamente mira a risolvere questa problematica della comunità energetica e quindi c'è tanta speranza e tanto ancora da fare. Concludo, finalmente concludiamo questa lunga presentazione spero interessante dicendo che gli interventi che fanno leva sul comportamento possono sì contribuire a ottimizzare un comportamento individuale e promuovere un'azione energetica significativa quindi probabilmente anche contribuendo a promuovere questo ruolo di cittadino energetico e non solo il ruolo di consumatore e probabilmente andando anche attraverso questa promozione di cittadinanza energetica andando anche a risolvere parzialmente quelle che sono le diseguaglianze che caratterizzano la problematica della povertà energetica come la misrecognition dei propri bisogni e l'accesso alle procedure decisionali ma sicuramente abbiamo visto anche che è soltanto una goccia che si aggiunge ad un mare enorme di complessità quindi quello che stiamo facendo è solo suggerire una serie aggiuntiva di strumenti che necessariamente deve essere complementata ad altri interventi strutturali che inevitabilmente caratterizzano devono essere implementate per risolvere questo complesso problema che è la povertà energetica e chiudo qui e vi ringrazio grazie a te grazie mille davvero Nives per la ricchezza del contributo per la pluralità dei contributi scritti già pubblicati in corso di pubblicazione che hanno caratterizzato questa lecture questa presentazione davvero grazie mille personalmente esatto avevo l'obiettivo e la speranza di conoscere anche qualcosa di nuovo terminologie che non avevo mai diciamo associato allo studio della povertà energetica e non potevo essere più contento davvero grazie momento appunto di domande risposte diciamo possiamo dare il via un po' alla gola di confronto e di soddisfare per soddisfare alcune curiosità io ne ho una, due in particolare però prima ho visto che già nel mentre nella fase conclusiva della presentazione dalla chat è comparsa una domanda che mi permetto di leggere appunto così che magari tutti la possano anche possiamo anche condividerla assieme da parte dell'ingegnere Rosario Corriere Comune di Milano complimenti dottoressa della Valle per l'interessante intervento sulla base delle sue ricerche usando il concetto di nudging una pubblica amministrazione come dovrebbe predisporre le proprie politiche di contrasto alla povertà energetica per essere realmente efficace direi sei molto interessante come riflessione grazie all'ingegnere per la domanda ovviamente grazie grazie mille per la domanda e la stima sicuramente la semplificazione della procedura come abbiamo visto anche per esempio attraverso l'utilizzo di questi meccanismi di default è un meccanismo molto semplice a costo zero che le amministrazioni possono possono sicuramente implementare qualora ci fossero dei programmi come appunto i bonus di cui abbiamo parlato prima che sono a livello nazionale ma anche per esempio giusto per ricollegarci anche alle comunità energetiche di cui prima la semplificazione di tutta la procedura che c'è dietro la possibilità di iniziare queste iniziative e anche lì la semplificazione potrebbe essere un altro modo per poter indirettamente in questo caso risolvere la povertà energetica semplicemente facilitare la vita questo è un paese abbastanza complesso e burocratico quindi questo potrebbe essere un primo modo oppure attraverso anche l'utilizzo dei cosiddetti energy advisor qui se vogliamo di nuovo ricollegarci al consumo energetico o anche semplicemente per la presa di consapevolezza del fenomeno stesso perché qui si va a far leva su quella che è la fiducia anche che può intercorrere tra le persone e un membro della comunità di solito gli energy advisor possono essere persone anche abbastanza estranee al contesto ma se questi energy advisor sono in realtà dei membri di una comunità in cui gli energy pur si identificano allora questo potrebbe essere un modo per poter sbloccare questa capacità di consumare meglio e anche di prendere maggiore consapevolezza e questo diciamo che c'è anche abbastanza casi studio al riguardo ringrazio altro se posso intervenire un attimo non so se c'è sì sì se di risposta c'è una persona in coda però se di risposta come no ci mancherebbe nel senso che noi ancora a livello di comune di Milano siamo in una fase di studio diciamo stiamo cercando di mettere appunto a sistema i vari elementi del puzzle e il discorso per diciamo collegare diciamo l'amministrazione pubblica con le persone e comunque individuarle tramite associazioni di volontariato barra caritas e quindi l'idea poteva ma ancora se non stiamo valutando era quella di andare a formare appunto queste figure chiamate volendo anche TED quindi tutor energia domestica e prese direttamente dalla caritas quindi poter diciamo utilizzare appunto volontari o persone che svolgono diciamo quotidianamente attività a contatto e quindi hanno una maggiore vicinanza ecco con questo con queste persone per potere bene o male fare da ponte mettiamola così per la pubblica amministrazione e appunto effettivamente le persone interessate da questo discorso però mi rendo conto che il tema è abbastanza complesso e non è neanche per noi semplice metterlo in atto tra l'altro per quello che riguarda invece le CR quindi le comunità energetiche rinnovabili lì il problema attualmente è che le leggi che sono uscite non sono semplici da diciamo mettere in pratica soprattutto da un punto di vista legale amministrativo perché anche lì individuare il soggetto che dovrebbe a cui diciamo dovrebbe far capo a una CR non è ancora chiaro come si debba declinare tutto qua grazie 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 mille per questo intervento e è giusto per per complementare non so se conosce anche la rete assist che è stata appena lanciata da Marina Varvesi che appunto collega tutti questi potenziali TED e un'altra cosa che volevo menzionare sono anche perché parliamo sempre e anche io ho parlato soltanto della parte degli energy pur però se vogliamo veramente semplificare i processi un altro modo potrebbe anche cercare di semplificare la vita ai proprietari quindi i proprietari in questo caso non necessariamente di dirizza sociale ma quelli che possono implementare degli interventi di renovation e qui per esempio i one stop shop possono essere un altro modo un'altra figura che può semplificare appunto questo processo di renovation che inibisce diciamo la decisione di rinnovare e di efficientare le case che ovviamente possono rendere le persone più vulnerabili ad una condizione di povertà energetica e per esempio in Spagna magari posso mettere anche il link ad un report che abbiamo pubblicato con dei miei colleghi qui al Jersey su dei casi studio di one stop shop abbiamo identificato anche dei casi in cui one stop shop oltre a semplificare la vita durante il processo di renovation dei home owner dei proprietari andava proprio anche ad essere un centro di riferimento per la comunità vulnerabile come per esempio delle periferie o di edilizia sociale e quindi lì assumeva proprio questo ruolo di ponte che andava anche proprio a sviluppare consapevolezza del problema e andava anche a sviluppare se vogliamo anche un po' di capitale sociale quindi one stop shop un altro ecco metto il link dopo nella chat volentieri sì grazie mille seguendo tra le domande sì infatti la richiesta poi possiamo anche condividere la presentazione direttamente nella chat ovviamente come preferisci se no poi possiamo trovare altri metodi Giovanni Carrosio ha alzato la mano per una per una domanda ma sì intanto grazie per l'intervento mi sono segnato tantissime cose provo a ridurre al nostro riflessione e domande che vorrei fare visto che hai fatto molto riferimento a possiamo domandarci se è etico o non è etico questo modo diciamo di concepire degli interventi rispetto alla povertà energetica ma so che c'è tutto questo dibattito sul tema dell'economia comportamentale che mi affascina molto poco perché io più che etico non è etico mi domanderei se è efficace o inefficace rispetto all'obiettivo di policy che è poi quello il punto di arrivo sul quale dobbiamo valutare un'impostazione di policy su una determinata questione quindi non tanto è paternalistica o non è paternalistica perché poi in fondo tutte le politiche pubbliche che vogliono stimolare dei comportamenti ma in generale tutte le politiche pubbliche hanno una loro dose di paternalismo dipende poi quale tipo di paternalismo mettono in campo c'è chi dice che l'approccio comportamentale è una forma di paternalismo libertario ci sono anche dei paternalismi autoritari nelle politiche redistributive per esempio quindi potremmo giocare su quello però non è tanto quello che mi affascina quello che mi affascina è quanto sono efficaci se ci sono già delle rilevazioni rispetto a degli esperimenti che sono stati fatte e quindi dei risultati in termini di effettiva modifica del comportamento che ha raggiunto poi un'emancipazione dal problema della povertà energetica delle persone quindi la prima questione la seconda è l'intervento del Comune di Milano già una micro risposta dà secondo me quando dice stiamo pensando di ragionare insieme a Caritas eccetera eccetera che è quali sono gli attori e qual è il livello di governo che può mettere in campo delle policy che si basano su questo approccio e quindi come si complementa questo come si relaziona questo approccio con altre politiche che si fanno sulla povertà energetica perché credo che quello che proponi tu è un pezzettino del modo con il quale possiamo affrontare la questione che però deve essere multidimensionale e quindi come si pone rispetto invece agli aspetti distributivi che probabilmente è la prima la prima questione da affrontare tutto nasce da una mancanza di reddito poi c'è l'aspetto invece della dispersione e quindi dell'efficientamento e poi io ci vedo dopo questi due l'aspetto comportamentale ma magari mi sbaglio perché magari dalle vostre analisi l'aspetto comportamentale è più importante rispetto a queste altre due dimensioni e l'ultima cosa so che ne metto tante ma abbiamo l'occasione di averti qui e ne approfitto è che a me interesserebbe molto provare a capire se dentro tutto il tema partecipazione si può anche parlare di protesta perché va bene se affiancare le persone in termini di policy va bene modificare i loro comportamenti però a volte se l'ingiustizia distributiva è così alta o l'accesso a un bene come l'energia che è un bene fondamentale per poi poter esercitare tanti altri diritti di cittadinanza noi spesso ce ne dimentichiamo però se uno è povero di energia ha problemi di salute non può fare la dad a scuola se è un ragazzo se è un bambino eccetera eccetera allora se questo approccio comportamentale ci potrebbe anche aiutare per chi è un po' antagonista come me ad organizzare la protesta è mai stato fatto questo? grazie mille comunque come dicevo prima disclaimer nasco da economista comportamentale ma mi definisco anche con un'anima sociologica quindi magari condividete anche un po' il mio dissidio interiore perché c'è la scatola e comunque è molto interessante queste domande e parto dall'ultima che è quella che mi piace di più in questo lavoro che adesso è under review e l'evidenza proprio ci ha suggerito che è un modo proprio per realizzare questo ruolo di cittadino energetico ovviamente se vogliamo nella camera si protesta comunque quando si alza la voce ovviamente se c'è un modo per poter alzare la voce questo è sicuramente un canale di empowerment di cittadinanza energetica e l'unico canale che abbiamo trovato è la presenza dei media quindi social media che è anche proprio i giornali stessi l'evidenza che abbiamo studiato faceva riferimento ai casi in Spagna dove appunto le persone hanno utilizzato questo strumento a disposizione per poter poi far prendere consapevolezza a livello comunque più politico del problema della povertà energetica e questo perché è successo perché erano consapevoli del problema della povertà energetica perché c'era stata una crisi enorme dovuta all'inalzamento dei prezzi e quindi comunque la consapevolezza diciamo che ha creato questo bisogno di alzare la voce nei media nei giornali nei press statement quindi per rispondere alla domanda come si può contribuire facendo leva su insight dell'economia comportamentale aumentare la consapevolezza del problema perché se tu non sai il problema se tu non sai che è un diritto che ti ha rinegato ovviamente non puoi agire quindi lì ci vedo una risposta per per la prima domanda sull'efficacia e l'evidenza a disposizione a livello impidico proprio sulla povertà energetica c'è abbastanza poco perché ci sono a parte lo studio quello con Caballero che del display però a livello sperimentale è proprio esplicitamente che attinge la comunità energetica almeno che io sappia non è stato fatto molto però c'è sicuramente un'ampissima una vasta letteratura sulla povertà in generale e per esempio interventi che fanno leva su l'intuizione dell'economia comportamentale che fanno aumentare la capacità finanziaria delle persone per esempio attraverso dei commitment device per poter risparmiare meglio in generale questo quindi non necessariamente il consumo le risorse energetiche ma proprio le risorse finanziarie e questo di questo c'è abbastanza evidenza e ovviamente ha delle ripercussioni proprio sull'emancipazione delle persone perché hanno a disposizione più risorse finanziarie che possono utilizzare poi per risolvere i propri bisogni quindi da lì possiamo sicuramente prendere ispirazione e questo ci suggerisce anche che c'è tanto ancora da testare proprio se vogliamo guardare i comportamenti energetici nello specifico l'altra domanda era su il livello questo era un po' più difficile era su gli attori e il livello ma sicuramente come ha detto prima questi interventi sono veramente soltanto una una serie di interventi aggiuntivi che assolutamente va a complementare altri interventi strutturali a livello nazionale a livello locale quindi si può cercare di aumentare l'efficacia innanzitutto di questi interventi come abbiamo visto con per esempio il bonus a livello nazionale e quindi io direi che vanno calate un po' nel contesto perché anche in una città ci possono essere più o meno diverse manifestazioni di povertà energetica oltre che di livelli di povertà energetica abbiamo visto anche dalla presentazione di Lorenzo che comunque è collegato anche molto alla condizione di povertà in generale e quindi già in Italia ci facciamo due domande su come la povertà energetica possa essere risolta attraverso degli interventi ad esempio nello studio che abbiamo preso in considerazione a Bolzano lì abbiamo complementato l'intervento di distrutturazione che è stato reso possibile da un progetto europeo ma ovviamente non tutte le non ci sono sempre dei progetti europei a disposizione delle risorse finanziarie che poi ci permettono anche di finanziare questi display così costosi quindi dipende un po' da contesto a contesto e sicuramente questo European Poverty Advisory Hub che cerca proprio di mettere insieme i miei attori locali con anche le società civili e coloro i quali lavorano con la povertà energetica può essere un'ottima arena anche per capire come aiutare e io conosco i colleghi dell'EPA e spesso ragioniamo e ci sarà una riunione presto anche per capire insomma come si può contribuire tutti quanti a risolvere meglio ma quindi direi tutti i livelli comunque grazie molto bene molto bene scambi molto interessanti anche da uditore dal momento che non ho visto ulteriori domande in chat ulteriori mani alzate allora mi faccio avanti io con due cose molto più rapide parto da quella forse un po' meno rapida fra le due mi sembra di comprendere e correggimi se sbaglio che lo sviluppo cercando ovviamente una certa una combinazione positiva tra nudging e boosting ad esempio il boosting agendo non tanto sui comportamenti ma sulle conoscenze dell'individuo come mi dicevi effettivamente sembra un po' più percorribile in un certo senso ovviamente non è una classifica fra le due configurazioni fra i due elementi però ripenso a un caso che ha anche mostrato anche te la comunità energetica e solidale di Napoli Est dove un ragazzino di 11 anni che è stato premiato come alfiere della Repubblica perché per le sue positive pratiche di coinvolgimento da parte delle famiglie ecco che mi verrebbe quasi da configurarla all'interno di certi boosting però tenendo in considerazione le caratteristiche dei nudging anche un po' in riferimento se no appunto al caso di cui è fatto riferimento ora nel nel contesto di Bolzano mi sembra di capire che c'è una combinazione un intreccio molto forte tra sviluppo di nudging nel contrasto alla povertà energetica con tutto quello che comporta dei temi che riguarda i temi che è analizzato e digitalizzazione da un certo senso da un certo punto di vista e questo è utilissimo soprattutto all'interno di una cornice analitica e di governo dove la digitalizzazione nel PNRR ricopre un ruolo molto centrale e insomma la rincorsa allo speed che poi in epoca di indura in pandemica si è accelerata ovviamente insomma è utilissimo ed è importantissimo però in un paese a diciamo a forte invecchiamento soggetto ad un forte invecchiamento demografico con un indice di vecchiaia significativo ovviamente ci si espone un po' al rischio di continuare a lasciare fuori forse una fetta di popolazione che purtroppo non ha quella combinazione di nudging e boosting per poter beneficiare quando parlavi di rendere automatica l'iscrizione a programmi di supporto sono d'accordissimo però se ripenso alle famiglie che abbiamo incontrato e che incontriamo nella nostra somministrazione di questionari a Trieste ci accorgiamo che vedrebbero degli ostacoli anche nei confronti di un processo di digitalizzazione e allora come fare? Questa è la prima domanda la seconda molto molto più semplice è come creare un Energy Café quindi richiamando ad una delle parentesi conclusive molto interessante proprio perché appunto ripenso alle attività di ricerca sul campo che facciamo con anche con degli studenti tirocinanti che la cui maggior parte sono oggi collegati con noi avremmo avuto e avremmo ancora tanto bisogno di attività similia di Internet Café insomma di formazione e familiarizzazione rispetto appunto al problema della poverta energetica cercando tra l'altro di non parlare troppo di non utilizzare troppo il termine poverta energetica che soprattutto appunto in contesti dove c'è una concentrazione di famiglie magari più fragili dal punto di vista economico può risultare stigmatizzante grazie grazie mille domande interessantissime parto dall'ultima come crearlo almeno da quello che abbiamo potuto vedere guardando al caso studio analizzato nel nostro paper e si può utilizzare dei anche qui meccanismi a fondo perduto quindi se ci sono ovviamente progetti europei che si vincono oppure anche se ci sono dei bandi perché alla fine sono iniziative volontarie quindi è anche tempo a disposizione infatti quello che è emerso dall'analisi di questo caso studio è che essendo comunque sempre delle iniziative gestite da volontari questi volontari poi hanno sempre un tempo molto limitato magari sono già coinvolti in altre iniziative sociali quindi questa è un'altra problematica quindi questo è proprio come iniziarle dipende sempre un po' dalla disponibilità delle persone e dalla disponibilità finanziaria però di per sé sarebbe bello attivarle proprio nel contesto stesso perché questa è un'altra cosa che era messa che che quindi attirano meglio le persone quando invece sono lontane proprio spazializzate lontane dalle persone e sono abbastanza inefficaci quindi e per la la prima domanda domanda interessantissima e anzi vi metto anche questo altro link se può essere di interesse di un altro progetto di cui faccio parte che guarda proprio la digitalizzazione e la relazione con la vulnerabilità ed effettivamente per quanto riguarda il boosting sicuramente anche citato nel paper con con Sarin è di fondamentale importanza cercare di promuovere anche quelle che sono le competenze di digital literacy in primis questo potrebbe essere una prima assoluta implementazione e poi di nuovo la consapevolezza cercare di anche di rendere salienti quelli che sono non soltanto i dischi ma anche i benefici perché ci sono tantissimi dischi associati alla alla digitalizzazione che se vogliamo sono anche legati ad una potenziale diminuzione delle agenzie delle persone quindi questa capacità di agire che è associata come evidenziavi anche tu a questa automatizzazione delle scelte che se da un lato vanno a salvare delle risorse però per esempio digitalizzando alcuni task che utilizzano l'energia si va anche a ridurre quelle che sono la possibilità di agire delle persone che quindi se vogliamo vanno a ridurre questa percezione della propria agency che è già abbastanza ridotta nelle persone che fronteggiano vivono in contesti di vulnerabilità dall'altra parte però è anche bene evidenziare quelli che sono i benefici della digitalizzazione proprio per l'energia poverti perché come abbiamo visto è molto difficile da identificare e digitalizzando quella che è proprio l'energia attraverso l'implementazione degli smart meter si ha anche la possibilità di andare a proprio identificare anche quelli che sono hidden gli energy poor invisibili e quindi potrebbe essere veramente un ottimo strumento per identificare i casi di energy poor nei contesti dove è difficile identificarlo attraverso dei metodi tradizionali come appunto il questionario anche semplicemente l'analisi dell'apparato edilizio certo sì grazie mille infatti c'è anche da vedere spesso secondo me la combinazione tra quei tre macro approcci in un certo senso di cui avevo fatto riferimento poi anche percorribile da un lato ci sarebbe il punto di vista dei cittadini e poi l'effettiva rilevazione dei consumi con anche diverse tecnologie diverse prospettive in questo senso anticipo il terzo webinar quello che trascorreremo con i ricercatori di RSE illustrerà appunto delle pratiche che sono state sviluppate in tal senso anche relative alla rilevazione dei consumi dove poi ovviamente appunto la digitalizzazione gioca un ruolo centrale ho già cliccato il link e quindi benissimo grazie ancora per questi riferimenti in più salutiamo anche l'ingegnere Corriere che ci ha fatto i suoi saluti in chat da parte mia ho già condiviso tramite un link we transfer le slide di introduzione del webinar che potete scaricare è un link we transfer quindi scade dopo una settimana quindi non perdete tempo e in tal senso poi appunto potremo vedere anche per le slide della lecture di oggi posso diffonderle io non so com'è più comodo per Nives ovviamente vedo che magari sì se riesci a condividerle per me va bene d'accordo perché qui in questa chat vedo che non c'è la possibilità di allegare un file quindi insomma d'accordo ma proverò a farlo in qualche altro modo ecco soprattutto insomma in particolare che so che le ha che le ha chieste di inizio incontro se ci sono altre domande c'è ancora un quarto d'ora quindi il momento buono da parte vostra d'accordo prendo anche nota di altre di altre richieste delle slide se ci sono altre curiosità vedo che c'è una mano alzata sì professoressa Natalia Magnani eh buongiorno beh allora visto che c'è tempo faccio anche io una domanda un po' anche sulla scia di quello che aveva chiesto Giovanni Carrosio ehm io più che altro sì eh mi è piaciuta molto la lezione mi ha molto interessato soprattutto anche conoscere questi sviluppi che non conoscevo del degli approcci comportamentali magari il nudging appunto lo conoscevo però non il boosting tutta questa parte più rivolta alla alle competenze alla partecipazione mi è sembrata molto interessante e allora noi sociologi abbiamo sempre avuto un atteggiamento piuttosto critico verso gli approcci comportamentali eh allo studio soprattutto nello studio dei consumi e recentemente eh si è diciamo imposto come abbastanza dominante nello studio dei consumi dal punto di vista sociologico questo approccio che si chiama approccio delle pratiche che si è schierato abbastanza in modo abbastanza forte contro gli approcci comportamentali soprattutto perché li vede come focalizzati sull'individuo eh mentre invece ehm si è sottolineato come ehm gran parte del consumo ehm fa riferimento alle pratiche sociali anche lo stesso consumo energetico eh in realtà avviene perché ehm ci troviamo diciamo bloccati all'interno di una serie di pratiche che eh non hanno direttamente immediatamente a che fare con l'energia ma hanno magari invece a che fare con il riscaldamento della casa con il lavarsi eh quindi ehm con eh questioni non immediatamente collegate al consumo energetico e che fanno sì che quando consumiamo energia in realtà non ci stiamo chiedendo quanta energia sto consumando ma eh invece eh ci spingono ad agire secondo quelle che sono anche delle convenzioni che possono riguardare appunto ehm un livello di comfort eh considerato normale associato a una determinata temperatura della casa oppure un livello di di pulizia ritenuto normale per esempio molti studi sociologici hanno analizzato eh il perché a un certo punto è diventato normale farsi la doccia una volta al giorno per dire che ha un comportamento che è molto dispendioso dal punto di vista energetico e e poi e quindi si sono messi in luce anche gli elementi diciamo eh rutinari eh dei consumi in particolare dei consumi energetici e gli elementi di convenzione eh che che li caratterizzano eh mi chiedevo appunto se questi elementi secondo te posso dare del tu eh sono sono stati diciamo un po' più inclusi nelle ultime forme diciamo di eh approccio comportamentale o c'è ancora un approccio fortemente individualista? grazie infinite per per questa domanda e condivido tutto e e anzi ne approfitto per condividere un altro paper di cui non ho parlato che cerca proprio di eh guardare le pratiche comportamenti di ventilation attraverso la lente sia dell'economia comportamentale che delle pratiche sociali eh la quattrice è Jessica Balest che penso conosci conosco sì sì e e quindi sì qui abbiamo diciamo questo è stato il primo tentativo di approccio interdisciplinare proprio a questo a questa problematica e sì abbiamo preso in considerazione soprattutto le pratiche di ventilazione e assolutamente cioè le due lenti si complementano e condivido assolutamente la la questione che ci si focalizza tendenzialmente su sull'individuo e questo assolutamente è così cioè nonostante infatti è uno dei miei futuri interessi di ricerca che voglio cercare di approfondire mi piacerebbe proprio approfondire anche quelle che sono le dinamiche intrafamiliari che comunque è una parte anche dell'economia va a guardare e che possono per esempio anche determinare quelle che sono i livelli di comfort in casa per esempio c'era c'è già qualche evidenza riguardo a alle all'aggiustamento del termostato in base a delle preferenze di comfort che sono diverse tra maschi e femmine e tendenzialmente però le donne poi patiscono anche delle conseguenze peggiori rispetto agli uomini si trovano anche in contesti dove hanno anche meno potere possiamo pensare che in Italia ancora ci sono dei contesti di questo tipo ancora quindi direi che c'è un inizio di interazione tra le due lenti e c'è ancora tanto da fare però io direi che sono due lenti che si complementano e sarebbe bello continuare ancora questo dialogo e Jessica infatti lo sa grazie molto bene avevo come la sensazione che avresti diciamo menzionato questa tua pubblicazione quindi molto 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 bene ma a me verrebbe quasi da pensare come commento finale che forse il tema della povertà energetica data anche le sue caratteristiche di oggetto multidimensionale riesce forse diciamo potrebbe aiutarci a discostarci effettivamente dall'interpretazione nota e consolidata che si ha anche alle posture critiche nei confronti del nudging ecco proprio perché la questione del consumo non viene affrontata ecco dal punto di vista di scelte di mercato ma le architetture delle scelte relative ai consumi energetici riguardano appunto la salute riguardano condizioni socio-economiche riguardano il luogo in cui si vive le quattro mura dell'ambiente domestico in cui viviamo e abitiamo che abbiamo scoperto negli ultimi due anni quanto sono centrali per la nostra vita quotidiana di conseguenza quindi ovviamente ci permette a chi appunto magari ha un punto di vista un occhio critico verso l'approccio comportamentale appunto di vederne di vedere le cose da un'altra prospettiva da un'angolatura che permette magari di aggiornare in tal senso mettiamola così il punto di vista quindi proprio per questo appunto era l'intenzione anche era di cominciare con questo approccio che dialoga con l'eco-welfare pur adottando effettivamente dei linguaggi delle parole chiave che magari si differenziano ecco quindi in tal senso credo che sia stato davvero molto interessante e molto produttivo per tutti almeno per me lo è stato indubbiamente io stavo condividendo solamente ora per indicarvi il in realtà volevo ma è superfluo farlo adesso per indicarvi il prossimo incontro sostanzialmente e quindi se non ci sono altre altre domande da questo da questo punto di vista possiamo possiamo iniziare a concludere il nostro il nostro pomeriggio assieme eccoci e un'altra cosa nel frattempo abbiamo pensato che potesse che può essere utile caricare anche sul sul sito del gruppo di ricerca di eco-welfare i nostri i nostri i contributi dei vari dei vari interventi ovviamente quelli dei vari ospiti dopo aver ricevuto il loro ok alla condivisione quindi ho preso ovviamente nota delle mail che sono state indicate sul che sono state indicate sulla chat quindi invierò la mail con i materiali però per le volte successive per chi volesse continuare a seguire e a stare con noi troverai i vari materiali anche sul anche sul sito se non mi pare ci siano altre domande da parte della platea se non se non erro di conseguenza possiamo possiamo concludere e darci appuntamento a venerdì prossimo in realtà venerdì prossimo di di mattina sarà l'unico incontro che prenderà che avrà luogo che avrà luogo la mattina con per l'appunto con Anna Baiomi del dottoranda di ricerca al Politecnico di Milano nel programma in Urban Planning Design and Policy e faccio appunto vedere magari rapidamente il il volantino diciamo da di settimana prossima e nel frattempo però ringraziando ancora almeno a livello personale Nives della Valle del General Search Center di Ispra per il ricchissimo intervento di oggi anche per la la chiacchierata che ha che ha preso forma in seguito a questo intervento mentre appunto per settimana prossima si sposta lo sguardo verso verso l'Ungheria Will plans to ease energy poverty go up in smoke quindi sarà uno dei due dei due webinar in lingua inglese spero che non sia che non sarà un impegno gravoso per chi ci seguirà cercherò di predisporre delle traduzioni in tempo reale che però saranno in lingua inglese e bene se non ci sono altre osservazioni possiamo chiudere l'incontro di oggi grazie ancora per tutto davvero grazie Nives grazie a te dell'intervento davvero grazie a me ci risentiremo insomma avremo modo di riportare avanti perfetto grazie a voi buona serata buona serata 1857 perfetto interrompo arrivederci grazie a te grazie a te